Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Eleonora Giorgi, famosa attrice italiana, ha scelto di condividere pubblicamente il suo difficile percorso contro il tumore al pancreas. Sin dalla diagnosi, non ha mai celato le sue emozioni, esprimendo sia il dolore vissuto in questi mesi che la speranza di trovare una cura efficace. In una recente intervista rilasciata al settimanale di più, l'attrice ha parlato apertamente delle terapie sperimentali a cui si sta sottoponendo all'estero, pur consapevole delle basse probabilità di successo. Giorgi ha raccontato di essersi affidata a una clinica americana che sta testando un nuovo approccio per trattare questo tipo di cancro, noto per essere particolarmente difficile da sconfiggere. Con grande franchezza, ha ammesso che le chance di riuscita sono ridotte. Ho il 14% di possibilità. Ho paura che mio nipote si dimentichi di me, ha confessato. Attualmente, i medici stanno analizzando campioni delle sue cellule inviati negli Stati Uniti, sperando che questo innovativo trattamento possa portare risultati, anche se il percorso rimane incerto.